Pettinare i capelli con i pettina a denti stretti può essere pericoloso. È una pratica comune che aiuta le persone a distrigare e a pettinare i loro capelli, ma spesso causa la caduta. Quando c'è una pressione, una forza dal pettina al capello bagnato, la radice del capello diventa debole e comincia a cadere.